Il pacchetto sostenibilità sortisce il suo effetto. Puntiamo sull'efficienza di CO2. Muoviamo merci e persone con veicoli sempre più alimentati con carburanti alternativi. Ottimizziamo i giri, formiamo il nostro personale conducente sulla tecnica di guida EcoDrive e trasferiamo i trasporti dalla strada alla rotaia. Acquistiamo il 100% della corrente elettrica da fonti energetiche svizzere rinnovabili, che dal 2013 sono anche certificate Nature Made Basic. Sui nostri edifici produciamo energia solare, aumentiamo l'efficienza energetica degli impianti nei nostri edifici, realizziamo costruzioni in conformità agli standard riconosciuti e puntiamo su fonti di calore rinnovabili. Offriamo soluzioni ecologiche come l'invio Proclima, il DispoBox e i PostPack Eco. Con PubliBike o PubliRide promuoviamo una mobilità orientata al futuro. Adempiamo alla nostra responsabilità sociale, garantendo un servizio di base capillare su tutto il territorio svizzero. Inoltre, restituiamo alla comunità parte dei nostri guadagni sotto forma di iniziative di pubblica utilità, come Due Volte Natale, e offriamo ai collaboratori condizioni di lavoro all'avanguardia. Nelle nostre attività di approvvigionamento operiamo con la massima consapevolezza. I nostri abiti da lavoro sono prodotti in modo equo e al termine del loro ciclo di impiego ricevono una seconda vita. In questo modo il cerchio si chiude. La posta. Siamo passati ai fatti.